Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati per il consueto appuntamento Matteo Tino con la rassegna stampa. Sfoglieremo i giornali nelle edizioni locali come sempre. Tutto pronto, però prima di tutto guardiamo l'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 7 aprile, San Giovanni Battista della Salle, sacerdote. Il sole è sorto alle 6.37 e tramonterà alle 19.44. Ormai le giornate si allungano di non poco. Vediamo subito le previsioni del tempo. Facciamo un salto all'esterno, vediamo le immagini della nostra webcam. Ecco, sono queste. Praticamente non si vede nulla perché la nebbia è imperante in questo momento della giornata. E quindi questo è naturalmente la camera, la web e quella solita puntata sul pincio. Allora, vediamo per giovedì, appunto, oggi le previsioni del tempo. Come vedete anche nella cartina eloquenti di Dascalie. Nebbia sui rilievi, però il cielo è sereno, poco nuvoloso, ad eccezione della fascia costiera e collinare che sarà ancora interessata dalle nebbie e dalle foschie, però in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Nuvolosolità stratiforme nel pomeriggio, naturalmente questo avverrà nel corso della seconda parte della giornata. Precipitazioni non si escludono, brevi piovaschi, però sul crinale appenninico sempre nella seconda parte della giornata. Temperature stazionarie. Vediamo per venerdì, che ci introduce nel fine settimana. E vedete sicuramente pioggia su tutta la regione, questo almeno è il modello proposto dalla protezione civile. Nuvoloso, in particolare anche nelle zone interne, deboli e sparse le precipitazioni nel settore meridionale. Nella regione fenomeni più intensi nella tarda mattinata, quindi insomma nel corso della giornata ci sarà un progressivo aumento delle piogge. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi. Questo è quello che ci aspetta domani. Facciamo un salto in avanti anche per sabato. Sabato perlomeno le prospettive sono un po' migliori, come vedete. Allora, iniziamo dai giornali. C'è di nuovo un focus sulla sanità e sull'ospedale unico, sul resto del Carlino, con un'intervista a 360 gradi su questo argomento con Ceriscioli e poi interviene anche Ricci su questo argomento. E allora, guardiamola, la pagina di apertura dell'inserto del Carlino Pesaro. Appunto qui, fotonotizia centrale. Vedete un fotomontaggio che vede appunto Ceriscioli che guarda quello che dovrebbe essere. Insomma, l'ospedale è l'unico. Questo è il rendering e il titolo è eloquente, unico ed indispensabile. Le firme raccorte per il nuovo ospedale. Naturalmente c'è contrasto, manifestazioni, Ceriscioli però tira dritto. Dibattito arretrato, con la sede unica si risparmiranno 12 milioni. E poi ci sono spese facili in Regione e poi anche Cronaca. Vediamo appunto l'intervista che vi dicevo a Ceriscioli. È una doppia pagina, quella come sempre, la 2 e la 3 del Carlino. C'è anche un'intervista a Marcello Ugolini, un primario dell'ospedale di Pesaro, che dice che non è un momento facile per loro in questo momento. C'è molta insicurezza per via appunto di questo dibattito. Poi nella pagina 3, appunto, qui di spalle vedete, vediamo soltanto il braccio di Ceriscioli, ma la foto è a tutta pagina. C'è questa intervista di Luigi Illuminati, dove lui dice non si facciano illusioni, signori, del tanto non si fa. Io tiro dritto per la mia strada. Il governatore Ceriscioli dice che l'ospedale è unico, è indispensabile. Ceriscioli parla così perché è anche assessore alla sanità. Lui si è mantenuto volutamente la delega alla sanità. E quindi, insomma, intervista approfondita. La Regione, i soldi ci sono. Dice che la Regione può fare mutui per l'ospedale. Questa sarà una strategia che vale per tutti. La classe politica, lui la definisce disarmante, perché vede un dibattito solo campanilistico. Ognuno porta avanti le sue ragioni. Inoltre, appunto, il presidente assessore dice siamo in ritardo, non si può più pensare all'ospedale della singola città. È una visione anacronistica che la Regione ha superato. Questo il Ceriscioli pensiero sull'ospedale. Poi vedremo anche quello che dice Ricci a riguardo in altre pagine. Continuiamo. C'è la cronaca, appunto, nella pagina di apertura dell'inserto. Ed è questo. Ho scippato mentre sale sul treno. Questo sventurato ventotene dice ho mollato lo zaino, se no cadevo. Sono stato strattonato. Erano in due. Mi hanno aggredito da dietro. È avvenuto, mentre saliva sul treno, martedì scorso, nella stazione di Pesaro, alle 20.45, insomma, quindi nonostante non fosse proprio notte fonda, anzi, insomma, era proprio l'imbrunire. Quindi siamo quasi in pieno giorno. Subito i controlli. La volante ieri ha identificato alcune persone della zona con l'ausilio delle telecamere. Andiamo nella pagina, sempre del resto del Corlino, che riguarda le due o tre pagine Fano. Si parla di Fondazione Carifano e Banca delle Marche, perché, insomma, la Fondazione chiede i danni, patrocinio gratuito anche per gli altri risparmiatori che si vogliono mettere, appunto, insieme a Fondazione Carifano per questa azione legale. E' un modo gratuito per sostenere le spese, perché Tombari dice che chi ha fatto piccoli investimenti di qualche migliaio di euro non può certo sostenere le spese per una causa come questa. E quindi noi ci facciamo, insomma, portatori, ci mettiamo tutti insieme, noi insieme a loro, siamo tutti rappresentati dall'avvocato Roberto Pozzi di Milano. Sotto accusa, naturalmente, anche, oltre a Banca delle Marche, la PricewaterhouseCoopers, che fece il prospetto informativo sottoposto ai risparmiatori, che, appunto, dicono, in Fondazione e anche Roberto Pozzi, conteneva informazioni mendaci che potevano indurre, appunto, a fare questo investimento, quando in realtà non ce n'erano tutte le caratteristiche. Allora, vediamo anche le altre pagine. Si parla di politica e di sicurezza. Nella pagina, sempre, dell'inserto riguardante Fano, i politici, i leader nazionali in tour, in vista delle amministrative, qui nel nostro territorio. Vediamo chi sono e dove vanno. Domenica arriva Salvini e Di Maio e si spartiscono le piazze. Il leader della Lega va a Fano, Salvini, e invece sempre il seguitissimo Di Maio, il grelino, va a Marotta. Il leader del Carroccio, alle 9.15 di mattina, sarà a Fermignano, poi Fossombrone e alle 11.00 al Politeama a Fano e poi andrà nel sud delle Marche. Invece il pentastellato Di Maio sarà a Marotta, in piazza Kennedy, alle 16.30, interventi anche Gradara, Fermignano e Fossombrone. Poi si parla di sicurezza perché c'è un'iniziativa che riguarda un social network, un Facebook e anche Whatsapp. Partono delle iniziative che sono già state sperimentate in altre zone della provincia dove la cittadinanza è a parte attiva, insomma si avviano queste forme di controllo e con uno scambio di messaggi si cerca di tenere il territorio sotto controllo. Mascarin e Conter sono insolite convergenze perché Letizia Conter di Fratellità Allianza Nazionale propone appunto di usare i social per controllare i quartieri e l'assessore Mascarin, che insomma sicuramente sono agli antipodi, dice ne parlerò con le forze dell'ordine e se mi danno l'ok noi ci siamo. Quindi insomma le buone idee mettono tutti d'accordo, questa è una cosa già sperimentata in altre zone d'Italia e anche nella nostra provincia, insomma questo può servire a scoraggiare i malviventi. Allora si parla delle scogliere, sono stati avviati i primi lavori, si stanno scaricando i massi provenienti dalla Jugoslavia, insomma il pontone è davanti all'ex pista dei go-kart, si parte da lì, per il momento Viale Ruggeri viene posticipato a settembre, ci sarà una pausa a maggio appunto per la stagione balneare. Lavori posticipati a settembre per uno dei tratti più esposti dalle mareggiate, però il programma è ben definito e chiaro, l'intervento partirà in contemporanea con quello degli scolmatori. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, ieri a Pesaro c'è stata una sottoscrizione importante da parte dei due sindaci, di Monbaroccio e di Pesaro, Matteo Ricci, i quali hanno sottoscritto l'accordo politico programmatico appunto in vista del referendum che si terrà il 17 di aprile, in contemporanea con quello per le piattaforme in mare. La fusione si avvia quindi verso il risponso delle urne, dei cittadini, in fusione è stato presentato questo accordo, firmato, l'accordo contiene proprio i punti salienti, che cosa riguarderà, i singoli comuni, quali saranno le spettanze, insomma i propri termini dell'accordo. E quindi il 17 aprile si va verso finalmente questa consultazione popolare e poi ci sarà naturalmente uno dei punti, sono oltre 10 nell'accordo, uno dei punti sarà che in giunta ci sarà un rappresentante di Monbaroccio e Monbaroccio avrà il municipio, questa sarà la forma giuridica del comune di Monbaroccio. Però Ricci dice che certamente, siccome lo devo nominare io, questo altro elemento di giunta lo sceglierò tra chi ha fatto la campagna a favore del sì e certamente non a favore del no. Questo insomma ce l'ha detto ieri in conferenza stampa. Chi ha seguito il telegiornale ieri, primo cittadino, poi a seguire abbiamo dato in integrale la conferenza stampa dei due cittadini e anche oggi, oltre a essere presente sul nostro sito nel corso della mattinata, a seguire le repliche del telegiornale e di primo cittadino ci sarà anche l'integrale della conferenza stampa. La pagina di Fano che riguarda il Corriere Adriatico, appunto anche qui si parla di Banca Marche che viene interessata da questa azione legale della fondazione, chiama in causa anche la società dei rivisori, informazioni errate e forvianti sul prospetto informativo. Questo è il nocciolo sul quale l'avvocato intenderà questa causa giudiziale. Poi nuove scogliere, appunto 500 metri di protezione, entro maggio saranno realizzate le 5 barriere in via Fratelli Zuccarì e di Bagni Sergio. Lo stop naturalmente a giugno per la stagione balneare. lotta all'erosione, naturalmente ci saranno anche altre due barriere scogliere nella zona anche dell'anfiteatro Rastad entro l'anno, insomma quindi un'azione importante su tutto il litorale, uno dei più flagellati. Allora, la pagina dell'interno, a Marotta sventola anche la bandiera verde, Marotta conquista il vessillo grazie alla sua spiaggia a misura di bambini, il mare è salute, quindi buone notizie per tutti coloro che vengono nelle nostre zone a passare le vacanze, insomma in quella zona c'è una spiaggia a misura di bambini, quindi può essere per le famiglie incentivante. Senigallia, l'inserto che riguarda Senigallia, ve lo faccio vedere, si parla di piste ciclabile più lunga, tutto rinviato, si parlava di questa pista ciclabile di diversi chilometri che collegava Fano, Pesaro e Senigallia, le osservazioni dei 5 Stelle trovano l'appoggio della maggioranza perché il nodo è appunto quello dei parcheggi. Ancora nelle pagine del messaggero c'è come fotonotizia nuova banca delle marche, Carifano chiede i danni e poi vi dicevo appunto il nuovo ospedale in tre anni, queste sono le dichiarazioni di Ricci che smonta l'asse Fan Urbino su Monbaroccio, accordo d'accordo anche a Guzzi, quindi insomma bocciato anche questa ulteriore idea di Monbaroccio. Pesaro presenterà un ordine del giorno dove viene rafforzata l'ipotesi del sito a Muraglia e poi Cronaca picchia la compagna in carcere operaio già condannato per la sua ex, poi spese pazze in regioni, rimborsi gonfiati, chiesti 4 anni per l'ex assessore regionale dei verdi carrabs, il tempo è insomma questo quello che ci dice Massimiliano Fazzini, è in arrivo il maltempo e quindi questo è. Vi dicevo appunto che anche Ricci ha espresso il suo parere su quello che sarà il futuro ospedale unico e lui dice voglio l'ospedale in 3 anni e non in 30, appunto smontata l'ipotesi su Monbaroccio e rispinge su Muraglia, appunto bocciata la proposta lanciata da Gambini e appoggiata da Seri, Ricci dice è roba vecchia di 5 anni ed è anche d'accordo l'ex sindaco. Il sito di Fosso Seggiore, ieri c'è stato il consiglio comunale a Pesaro, è stato contestato anche da alcuni esponenti dell'opposizione il sito di Fosso Seggiore, però buone notizie perché sono stati trovati i fondi per il centro antiviolenza che era un po' in forse perché appunto non si sapeva se c'erano i fondi. Nell'altra pagina che riguarda Pesaro appunto c'è l'accordo programmatico e politico Pesaro Monbaroccio per la fusione e appunto è riportato tutto punto per punto quelli che sono gli accordi. Stavolta si va davvero al voto, il futuro dei monbaroccesi lo decideranno loro, ma buttandola in politica rischiamo di perdere una grande opportunità economica, questo è quello che ha dichiarato Ricci in accordo con Vichi ieri. La nuova questura è all'ex Intendenza di Finanza, il SIULP, il sindacato di categoria dei poliziotti, frena, si tratta di una decisione affrettata, l'opposizione chiede che l'ubicazione sia scelta dal Consiglio Comunale. E poi un evento che riguarda Rossini, la Strarossini, quindi in bici, accoppiata Turismo e Bici per questa manifestazione che prevede quest'anno ancora un passaggio più suggestivo rispetto a quello degli anni precedenti. L'ultima pagina, siamo in chiusura, siamo un po' lunghi oggi, Scogliere nel Messaggero finalmente al Via i lavori, si parla di questo appunto nelle pagine dell'inserto del Messaggero, stop all'erosione, la prima parte si concentrerà su tre tratti e poi anche qui sicurezza, nati i gruppi Facebook e WhatsApp per appunto contrastare la piaga dei furti e la sicurezza nelle nostre strade. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto anche a coloro che ci seguono in replica, Occhio ai giornali torna domattina puntuale alle 7.30 e questa sera naturalmente l'informazione arriva con Occhio alla Notizia alle 20.30. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie a tutti.